L'Executive Master in Bank Management è un percorso di 15 giornate, realizzate principalmente il sabato, che offre una visione generale del mondo banca. CAPTA è un centro di formazione attento alle esigenze degli aspiranti e soprattutto alle evoluzioni del mercato del lavoro. Ho scelto di frequentare questo Master perché l'ho reputato subito un buon mezzo di connessione con il mondo del lavoro, nella fattispecie con il mondo bancario. Gli obiettivi del percorso, gli obiettivi del Master sono quelli di formare al termine delle risorse che possono entrare all'interno delle organizzazioni bancarie, degli istituti bancari, effettuando attività sia di natura commerciale che attività in staff alle linee di direzione all'interno delle banche. Chi oggi deve scegliere un Master consiglierei soprattutto la specializzazione in un determinato ambito. Il mercato premia chi ha conoscenze specialistiche? Il Master permette di verificare tutti gli aspetti, gli strumenti e i prodotti che vengono offerti nel mondo bancario e quindi consente di orientare la propria carriera verso un settore determinato. Questo Master mi è stato utile perché mi ha offerto l'opportunità di fare un colloquio con più società, con delle banche e in seguito a questo colloquio ho avuto l'opportunità di fare uno stage e poi di essere assunta presso questa istituzione. Mi permette di spendere un nome come CAPTA durante i colloqui di lavoro. Sono laureato in Economia Internazionale, oggi sono Lone Administrator in Euro-Ipo AG Commerce Bank Group. Le sedi in cui viene realizzato sono Milano, Roma, Napoli e Padova. Grazie a tutti!